ragazze non perdete il vostro autobus parte fra tre minuti ready look allora giulia stavo pensando dato che abbiamo parlato dei beatles possiamo fare qualcosa un po di retro anni 60 possiamo anche giocare un po con i colori ad esempio rosso siccome l'autobus è rosso è vero è vero o magari il giallo dato che si abbina molto bene con il rosso bella idea partire dai colori qua c'è il rosso però non mi convince sai no il mio è un po troppo scuro forse io ho trovato un bel vestito rosso carino quello mi piace un sacco no vabbè ne ho trovato uno perfetto a entrambi i colori molto bello mi piace però anche io devo trovare qualcosa di giallo guarda una collanina carina io ho preso un braccialetto allora abbiamo finito virgina ma no mancano le scarpe giusto eh sì le scarpe ci vogliono tipo queste belle mi piacciono queste sono molto carine mi piacciono abbiamo creato un ottimo look sì un bel salto indietro nel tempo you have three minutes avete tre minuti ready look allora siamo a londra e abbiamo parlato di beatles ok quindi io direi sorprendiamo tutti e vestiamoci da beatles brava mettiamoci all'opera questi pantaloni ok li voglio neri anch'io ah eccole trovato anch'io yes molto elegante una camicia io voglio una camicia eccola trovata io cerco un maioncino facciamo questo può andare bene sì mi piace però io voglio un accessorio michelle la cravatta ok ci mancano le scarpe scarpe ragione la ce ne sono un po io pensavo a queste col tacco che ne dici col tacco ok niente tacco qualcosa dovrete scegliere io prendo queste che belle vero voglio qualcosa di nero anch'io prenderà queste perfetto con questo look potremmo creare il nostro gruppo musicale sì ma io prenderò lezioni di canto